Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 14 ottobre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 12 versetti dall'1 al 7. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto, quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovrete avere paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. In questo testo del Vangelo ci viene presentato un discorso articolato che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Nonostante fossero riuniti attorno a lui, lo abbiamo ascoltato, migliaia di persone. Il discorso inizia con un avvertimento. Guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Il riferimento all'elemento del lievito mi fa pensare al tempo liturgico della liturgia ebraica che precede immediatamente la Pasqua, che viene detto tempo degli azimi, citato diverse volte anche nei Vangeli canonici. Probabilmente Gesù si trovava in quel periodo liturgico, ma questa potrebbe essere soltanto un'ipotesi. In riferimento invece agli azimi è interessante perché durante questo tempo liturgico degli azimi ebrei procedono una sorta di purificazione della casa da ogni alimento lievitato. Questo precetto di eliminare il lievito in casa è osservato con un rito apposito che offre la possibilità di poter giungere in modo degno al giorno della festa detta Ag Ammatzot, che è un altro nome per la festa di Pesac, cioè della Pasqua. La norma rituale ancora oggi rispettata nasce ovviamente dalla Sacra Scrittura, in particolare nel libro dell'Esodo capitolo 13, versetti dal 6 all'8, dove è scritto Per sette giorni mangerai azimi, nel settimo vi sarà una festa in onore del Signore. Nei sette giorni si mangeranno azimi e non ci sarà presso di te ciò che è lievitato, non ci sarà presso di te il lievito. Entro tutti i tuoi confini, in quel giorno tu istruirai tuo figlio. È a causa di quanto ha fatto il Signore per me quando sono uscito dall'Egitto. Ecco il riferimento al lievito dei farisei fatto da Gesù in questo discorso potrebbe essere in linea quindi con l'interpretazione rabbinica che offre una lettura dell'elemento rituale e simbolico del lievito in riferimento appunto alla Pasqua. Secondo questa interpretazione rabbinica eliminare ogni traccia di lievito significa sgonfiare il cuore, proprio l'espressione che ho ritrovato, polverizzare ogni sorta di orgoglio. Il lievito dei farisei quindi qui di cui parla Gesù è questa ostentazione orgogliosa dell'osservanza religiosa che tiene nascosta di fatto la vera riconoscenza della salvezza, quindi di questa opera di liberazione dal male dell'Egitto di cui ci parla la Pasqua, perché la salvezza se è vera non ha bisogno di essere ostentata ma si comunica da sé. Gesù ci dice non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi come il popolo ebraico si allontana dagli elementi lievitati per il rito degli azimi, così da proclamare e celebrare degnamente la liberazione ottenuta da Dio nella Pasqua senza alcun merito, senza nessun vanto quindi da parte dell'uomo, così Gesù annuncia ai suoi discepoli che l'amore di Dio Padre è per ciascuna creatura perché Lui, Dio, la ricopre di attenzioni, si ricorda perfino di quelle più piccole, perfino quelle che per noi possono essere insignificanti e di poco valore. Qui Gesù cita i cinque passeri che, come ci fa notare Gesù, si vendevano per pochi soldi nei mercati di Gerusalemme dove appunto i poveri potevano acquistare questi piccoli volatili per offrirli in sacrificio per la festa. Il tema di fondo allora di questo discorso che ci fa Gesù è la liberazione, liberazione non tanto da fattori esterni che in questo caso sono simboleggiati dall'elemento rituale del lievito ma dai grandi pesi dell'anima, quindi l'orgoglio e quindi l'invidia e la paura. L'orgoglio che appunto dicevo l'invidia ma potremmo dire la spavalderia e infatti Gesù dice il lievito dei farisei è l'ipocrisia, questo orgoglio, questa spavalderia che rendono la persona ipocrita, mentre la paura che è l'eccesso opposto e lo comprendiamo dalle parole di Gesù che rende la persona schiava di una falsa immagine di Dio fino a portare la persona, se la lasciamo crescere, se lasciamo crescere in questo modo nella paura di Dio alla convinzione della condanna eterna. Allora facciamo nostri gli avvertimenti che il Vangelo oggi ci offre, allontaniamoci come qui dice Gesù dall'orgoglio e quindi che ci fa diventare ipocriti e rifiutiamo la paura, togliamola da noi oggi, non per qualche nostro merito o a causa del nostro coraggio ma per l'amore che il Signore ci mostra donandoci la vita e che mostra in ogni sua creatura. Il Signore ci liberi dall'orgoglio di chi fatica con ansia per emergere per qualche merito che si riconosce e ci doni l'umiltà pacifica di chi si sente piccolo, povero, amato da Dio, raggiunto dalla sua misericordia, fonte della libertà spirituale che oggi il Signore ci vuole comunicare e ci vuole donare in questo giorno. Buona giornata!